I carabinieri della Compagnia di Livorno, su disposizione della locale procura, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di quattro soggetti gravemente iniziati da aver commesso 11 furti in abitazione. I quattro arrestati, secondo le risultanze investigative, si introducevano nelle case loro vittime o in orario mattutino, fingendosi tecnici del gas, o in orario serale, preve frazione degli infisti e degli immobili. Per il buon esodo dell'operazione è stato fondamentale il contributo a una signora di 85 anni, che a seguito di un raggiro subito si è prontamente recato a pressione delle nostre caselle per spoggiare denuncia.